Mercoledì 6 luglio, primo giorno di inversione di strada Madonna Marina. Cosa dice la gente? Ma lei è contento di questo passaggio? Le andava bene come prima? Così non va bene secondo lei? E' la colpa di chi è? Del sindaco. Stefania, oggi è il primo giorno di inversione del senso unico di strada Madonna Marina. E' una grande vittoria, l'avete tanto sudata questa inversione. Dici due parole, sei contenta? Va bene? Ci sono problemi? Allora, siamo contenti per l'inversione di marcia in via Madonna Marina. Ci dispiace un po' per le vie come via Marco Polo, via Lettireno. Comunque penso che ci saranno di piccoli accorgimenti per far andare bene anche le altre strade. Perché sappiamo bene che la coperta è corta, tira di qua e si scopre di là. Comunque noi non siamo contro le altre strade, siamo per aiutare le altre strade. Se sarà possibile, se avranno bisogno di un aiuto, noi saremo disponibili come comitato. Perfetto, grazie. Tu sei il gestore del distributore della ESO di strada Madonna Marina. Sì. Questa mattina c'è stata l'inversione del senso unico di marcia. La tua opinione? La mia opinione, sinceramente, penso che fosse stato il caso di lasciare come era prima. Una volta che la gente si è abituata in un senso, mi sembrava giusto lasciare come era. Anche perché adesso cambiare di nuovo in piena stagione, non la vedo una trovata giusta. Grazie. Buongiorno Mario. Allora, oggi è il primo giorno dell'ennesima inversione di strada Madonna Marina. Sì. Cosa ne pensi di questa inversione? È un assurdo. Soprattutto anche per andare alle poste. Perché io per fare 20 metri devo fare un chilometro per andare a casa. Quindi non sei contento? No, assolutamente. Ma senti, ma quando l'hanno invertita l'altra volta? Ma non era così, era differente però l'altra volta. Era più possibilità di viaggiare meglio. Sì, ma l'altra volta, quando è stata fatta la prima inversione, c'era un comitato che era contrario, che protestava. Di fare questo. E tu, che a volte eri d'accordo, eri favorevole? Ma favorevole a avere fatto come che era prima. Ma tu, hai la tua opinione che la volta l'avevi fatta sentire? No, 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 io ero contento così perché tu, la sottomarina, vai a casa presto. Ho capito, ma tu in consiglio comunale non sei mai venuto a dire che eri contento? No, mai, non sono mai andato. Va bene, ok, grazie. Enrico, tu sei il titolare dell'officina Bergo qua di strada Madonna Marina. Sì, sì. Questa mattina c'è il primo giorno di inversione di strada Madonna Marina, del senso unico. Sì. Ti vedo felice. Tantissimo. Dai, dici la tua opinione, dai. Mi sembra sbagliata la scelta perché con questo senso di marcia la gente adopera meno la strada e le strade sono fatte per essere utilizzate, non per essere eliminate. Capisco i residenti che se non c'è traffico vanno meglio, ma noi le strade dobbiamo adoperarle e noi artigiani, noi lavoratori lavoriamo con la gente che passa con il passaggio. Ma l'altro anno, quando c'erano tutte le proteste dell'inversione, morti, feriti, cimposcate, eccetera, eccetera, tu, scusami la domanda, dove eri? Io non c'ero perché non pensavo che per una mancanza di soldi sarebbero pensati di cambiare di nuovo il senso di marcia. Non avrei mai pensato che comunque lo avrebbero cambiato. I dei politici hanno deciso così e vuol dire che è giusto così e loro l'hanno deciso così. Grazie, oggi è il primo giorno di inversione di strada manuale marina nel senso unico. Cosa ne pensi? Che il Comune sta facendo una bruttissima figura perché il Comune doveva prendere in mano la situazione fin dal primo momento. Quello che era deciso doveva essere deciso. Non cambiare quattro volte, cinque volte. È brutta figura. Secondo me l'ha fatta solo il Comune. Ma ti riferisci alla precedente amministrazione o a quella attuale? Prima alla precedente amministrazione. Questa qua amministrazione praticamente appena inizia. Quindi è una brutta figura della precedente amministrazione? Sì, sì, senz'altro. Grazie. Allora Rizzo, oggi inversione di strada manuale marina. Cosa dice la tua opinione? Ti piace? Sei contento? Non sei contento? No, sì, non ho ancora fatto bene. Non ti piace così il senso? Ma scusa una cosa, l'anno scorso che c'erano le proteste, eccetera, tu dove eri? Non c'ero, per me non andava bene così. Ma tu quando andava bene così, hai fatto sapere la tua opinione, sei andato in Comune, hai vigiato gli altri? No, è verità, non sono da nessuna parte perché ho detto ora che è a cambio, ormai penso che resta così. Non capito. Non ho da più della cosa, insomma. Va bene, grazie. Tutto qua. Ciao.